questa mattina facciamo il gioco del salto a libertà oh il salta è un gomma park è un gomma park si salta che una meraviglia non posso rispondere ma ci è ma ci sono da ieri anzi davanti ieri davanti però siamo noi l'uridi siamo noi l'uridi cioè ritire gratis signora basta chiamate lo vengono a prendere gratis è la gente che si scorda comunque ragazzi vedete qui c'è il gomma park quindi oggi se volete svolgere un'attività venite qui salta salta salta